Ciao a tutti, oggi vi presento Stamp Farm, un gioco edito da DV Giochi, consigliato dai 6 anni in su ma tranquillamente anticipabile e adatto dai 2 ai 5 giocatori. All'interno della scatola troverete le istruzioni, un blocchetto bello spesso di schede di gioco che vi serviranno dopo, quale prima le vedete già giocate ma perché abbiamo già fatto qualche partita, i dadi, i timbrini degli animali raffigurati sui dadi e della balla di fieno che è in più e funzionerà come jolly, delle schede obiettivo per la modalità avanzata e andiamo a vedere ora come si gioca. Per una partita Stamp Farm gioco base vi serviranno le schede di gioco, una per ogni giocatore, i 3 dadi e i 6 timbrini. Nei dadi sono raffigurati tutti i vari animali che ci sono nei timbrini e in più c'è la balla di fieno. La balla di fieno nel gioco base è utilizzata come jolly, quindi nel momento in cui vi uscirà questa potrete decidere un timbrino a vostra scelta. Ma vediamo come si gioca. Inizia il giocatore più giovane che tirerà i dadi, da questa tirata dei dadi usciranno tre figure. Potrà scegliere quella che preferisce e prendere il dado, cioè il primo giocatore prende il dado con sé e a quel punto prende il timbrino e va a timbrare in un punto qualunque della scheda a sua disposizione col timbrino che ha scelto. A questo punto toccherà agli altri giocatori in gioco con questi due dadi rimasti scegliere quale vogliono usare e utilizzarlo. Per esempio il giocatore 2 può scegliere la gallina e magari anche al giocatore 3 interessa la gallina. Non necessariamente sono obbligati a sceglierlo diverso, possono anche scegliere lo stesso. Sicuramente non possono scegliere quello del primo giocatore. Dopo il primo giocatore gli altri non prenderanno il dado per loro, quindi saranno a disposizione. Una volta che avranno timbrato tutto il foglio, si ripiazzeranno tutti i timbrini e il gioco continuerà in senso orario. Passerà al secondo giocatore e anche egli tirerà i dadi. Da questa tirata dei dadi sceglierà il suo e rimarrà agli altri giocatori la scelta fra i due dadi rimanenti. Vi ricordo che la balla di fieno vale come un jolly, quindi potrete scegliere voi che cosa utilizzare come timbrino. Se vi capita che un timbrino non vi piace, per esempio, per la vostra strategia di gioco, a questo punto avrete due spazi nella fattoria dove potrete andare a timbrare col timbrino che non vi piace. Nel momento in cui gli spazi sono occupati non potrete ovviamente più rifiutarvi di timbrare, quindi sarete obbligati a timbrare in campo. Ma come si contano i punti? Quando tutta l'area di gioco sarà timbrata andremo a finire la partita. Non importa quanti timbri ci saranno in fattoria, se sarà vuota e ci sarà uno o due timbri, l'importante è che l'area qua sia completa. Per andare a contare i punti dovremo contare i punti per ciascun gruppo. Qua sotto abbiamo una scheda con cinque quadratini bianchi che ci aiuteranno nella modalità base a contare i punti. Per fare dei punti bisogna fare dei gruppi di animali, vuol dire degli animali adiacenti all'interno della fattoria. Nella modalità base questa siepe non va considerata. Quindi per esempio qua uno, due, tre, quattro, cinque maialini. Ho cinque maialini, qua ho un altro gruppo di tre maialini. Conta il gruppo più grande, quindi qua scriverò cinque perché ho fatto cinque punti dei maialini. Se avessi fatto due gruppi da quattro maialini, per esempio qua ci fosse stato il quarto maialino, avrei potuto scrivere otto perché due gruppi ugualmente grandi che rappresentano la maggioranza del gruppo possono essere sommati. A questo punto vado a contare le papere. Delle paperette io in questo schema qua non ne ho, vado a metterlo zero. Poi vado a contare le pecore. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Con metto sei e vado avanti. Di mucche, le mucche guardo bene e anche queste non sono presenti, quindi metto zero. A questo punto le galline. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sei galline. Vado a contare il punteggio, sei, sei, dodici e cinque, diciassette. Questo sarà il mio punteggio finale. Chi fa più punti vince. Questa modalità è adatta ai più piccoli o per imparare bene le regole. Quando sarete poi pronti passeremo alla modalità avanzata. Ricordatevi che il punteggio è per gruppi di animale, quindi se vi capitasse un solo singolo animale, per esempio se io qua avessi avuto una mucca singola, non conta come gruppo, quindi non mi darà punteggio. Una mucca timbrata qua mi avrebbe dato zero punti lo stesso. Altra nota da ricordarvi che due animali messi in diagonale non faranno un gruppo. Si intende per gruppo solo animali adiacenti ortogonalmente. Nella modalità di gioco avanzata cambieranno una serie di cose. La prima cosa che cambia è che la siepe farà da divisorio, quindi questi animali qua per esempio sono staccati dalla siepe e non saranno più considerati adiacenti. In più avrete questi tre tipologie di tessere obiettivo. Quando andrete a dividerli, li dividete per pala, cesoie e forcone e andate a mescolarli e a prenderne uno per ogni categoria che rivelerete e faranno da obiettivi che daranno punteggi in più. Le tessere in più, non rivelate, le andrete a riporre nella scatola. Non vi serviranno in questa partita. Queste tessere obiettivo, se raggiunte, vi daranno dei punti aggiuntivi. Come vedete in alcune di queste tessere, per esempio questa, c'è la balla di fieno usata come balla di fieno. Infatti nella modalità avanzata voi potrete decidere, nel caso abbiate il tiro con la balla di fieno, se usarla come gioglio o se usarla come balla di fieno. Infatti in questo caso mi servirà proprio la vera e propria balla di fieno per raggiungere questo obiettivo. Se vorrò farlo, dovrò usarla come una balla di fieno. Gli obiettivi sono scritti molto chiaramente, quindi per ogni oca adiacente alla siepe, per esempio, prendo un punto. Se hai almeno due animali di ciascuna specie, prendo sei punti. Sono molto chiari e vanno ad integrare queste caselline qua del punteggio, cioè alla fine conterete come al solito i gruppi di animali ricordandovi della siepe e in più guarderete quanti punti obiettivo avrete raggiunto per fare la vostra somma totale. Per il resto le regole rimangono quelle del gioco base.